E benvenuti ragazzi, benvenuti, io sono l'unica 35, qui è la città di Roma, Parma, in cui è finita il 2-1 con la vittà della Roma, in cui nel primo tempo, raga, ha segnato, ha segnato, dico però, che ha segnato, dico però, di Luca Pellegrini, che ha successo il 1-0, in cui adesso poi il 1-1 ha segnato Gervinio, che ha concesso la valità, poi il 2-1, raga, ha segnato Diego Pellegrini, che ha concesso il vantaggio. Quindi ragazzi, la Roma si qualifica con l'Europa League e non trova la Champions, che ormai l'ha conquistata l'Inter, quindi ragazzi, quindi ragazzi, la Roma ha ufficiale conquistato l'Europa League, ma perché siccome l'Inter ha vinto il Milan, o anche lei ha conquistato l'Europa League, quindi ragazzi, come ho detto, come ho detto, la Roma non aveva più speranze di venire la Champions League, quindi ragazzi, un po' medico, e c'è quella Roma, ma per me si è avuta sia per l'Atalanta che per l'Inter, quindi ragazzi, questa è una partita, ma anche l'ultima partita di Daniele De Rossi, con la Mario della Roma, che poi, dopo la sua lunga vacanza, dovrà prendere una decisione, o fare l'allenatore, oppure giocare ancora, oppure prendere i scarpi al chiodo. Quindi ragazzi, se in caso lui diventasse un giocatore, andrebbe a giocare o in America, o in Argentina, della Boga Junior, oppure andrebbe nel mio LS. Quindi ragazzi, il suo futuro deciderà dopo la sua vacanza. Quindi ragazzi, come ho detto, sarà la partita molto bella, per l'importante della Roma, e anche l'ultimo, per il capitano della Roma, che darà la sua fascia, il capitano, a Florenzi. Quindi ragazzi, per loro, è stata la Roma, si mette anche questa ultima vittoria, e anche per l'ultima, forse l'ultima partita di Ranieri, che forse lascerà la Roma, dopo una stagione. Quindi ragazzi, e quindi, raga, la Roma è stata una volta molto importante, ma non è così tanto importante, che ormai gli ufficiali conquista l'Europa League. E di questo, raga, Per i miei c'è il parma, scendi posto, che va al quattro dicesimo posto, ma al massimo si salva, quindi come via, verso al massimo si salvano, e saranno ancora, per la stagione in serie. Quindi, raga, come sempre, da lei è tutto, noi sempre, nella settimana, passiamo video, di prossima partita, quindi da lei è tutto. Ciao!